Sono Davide Munaro, sono presidente della società Gruppo Mazzini. La Gruppo Mazzini è una società di servizi che si occupa in tutto il territorio nazionale di tutto il post-decesso. Il decesso è per la Gruppo Mazzini un obiettivo da risolvere di tutti i problemi che nascono conseguenti al decesso. La Gruppo Mazzini è una società che nasce con l'obiettivo principale di offrire tutti i professionisti che sono necessari per rispondere alle esigenze dei clienti che si trovano coinvolti in un decesso di un proprio familiare o di un amico o di una persona. Un netto di professionisti che hanno fatto tre sette, la sette di collaborare in esclusiva con la mia società, la sette di lavorare in sinergia quindi all'interno della struttura della Direzione Generale che ha sede a Padova e la terza condizione è che questi nostri professionisti devono lavorare in esclusiva e in sinergia con i nostri consulenti. Abbiamo creato un network di consulenti in Italia i quali li abbiamo soprannominati centri di ascolto, centri di ascolto nell'ascoltare le problematiche delle persone di qualsiasi genere che va dal mondo dell'incidente stradale, dal mondo del decesso morte naturale, ma la sanità e infortuni sul lavoro, soprattutto dal decesso noi pensiamo che sia necessario a questo punto non un professionista ma una serie di professionisti, i quali questi professionisti in sinergia possono rispondere con una formula gratuita, quella di non anticipare nessun tipo di costo che solo il cliente paga solo se c'è la soluzione del problema, soluzione del problema con un costo preventivamente concordato il cliente ovviamente ha la garanzia, una garanzia pseudo assicurativa che gli garantisce la tutela quindi un'azienda che è a servizio di tutti, di tutte le persone che ovviamente si trovano in difficoltà. L'azienda che si occupa non solo ovviamente della linea persona ma anche della linea azienda, quindi ci interessiamo di recupero crediti, ci occupiamo di passaggi generazionali, ci occupiamo di legge salva suicidi, ci occupiamo di opportunità di cessione di aziende. C'è un'azienda, la nostra, la quale anche con un'area particolare che è l'area economia e finanza, si occupa di quello che potrebbe essere un aiuto all'impresa nella possibilità di far business, penso alle case funerarie dove chiaramente oggi è una situazione che molte volte spessissimo l'imprenditore funebre vede l'esigenza però magari disse porca miseria quanti soldi servono per fare questa operazione. Ecco, la nostra azienda ha creato un'area speciale che è l'area economia e finanza, la quale chiaramente con la finanza agevolata cerca di dare un aiuto, un contributo al fine che l'imprenditore possa risolvere i suoi problemi. Ecco, un'azienda integrata, un'azienda unica, un'azienda che dà all'imprenditore fune l'opportunità non solo di soluzione ma anche un'opportunità di aumentare il proprio fatturato. Veniteci a trovare, prendete contatto con la nostra azienda e troverete la soluzione ai vostri desideri. Grazie.